700.000 euro a tanto ammonta il bottino dell'ultima assalto ad un'azienda di preziosi del Retino. Una rapina alla luce del sole all'italiana oro a Badialpino, azienda specializzata nella raffinazione di metallo prezioso. L'aggressione è avvenuta all'interno del piazzale. Le vittime, i titolari di 82 anni di una dipendente, stavano infatti trasferendo delle verghe d'oro quando i malviventi gli hanno spruzzato in faccia lo spray urticante, intossicandoli. Poi la fuga in sella ad uno scooter con 15 kg di metallo prezioso, materiale ancora grezzo. Un colpo studiato nei minimi dettagli, i malviventi, almeno due a volto coperto, hanno infatti agito conoscendo bene le abitudini degli orafi che sono stati assaliti con estrema sicurezza nonostante l'orario diurno. Sul posto i carabinieri che conducono alle indagini e un'ambulanza per soccorrere le vittime sottoposte ad accertamenti medici. Al vaglio degli inquirenti adesso le immagini delle telecamere di video sorveglianza per individuare i responsabili che sono riusciti a scappare tra le numerose strade secondarie di quella zona. Il colpo è stato messo a segno a poche settimane di distanza dall'assalto milionario alla cassoro di Castiglion Fibocchi e a un mese da un altro furto in un'azienda di Anghiari. Il distretto ora fu a retino negli ultimi mesi, infatti, è finito più volte nel mirino dei malviventi. Quasi ogni settimana subiamo o un furto, un tentato furto o una rapina. Io credo che sia giunto il momento di ricevere un segnale forte da parte dello Stato.